Siamo con il playmaker della Terramas Picchi, Mattia Sacchi. Mattia, archiviato il derby contro Roseto, ci avviciniamo agli spareggi, appunto, ai cosiddetti play-in contro Caserta. Ti chiedo come avete lavorato in questa settimana? In questa settimana, appunto, prima di questi spareggi è stata una settimana che appunto ci stiamo andando molto bene in vista di questa partita che aspettiamo da tutto l'anno e quindi speriamo di riuscire a fare bene soprattutto la Caserta e poi quando torniamo qua in casa a noi di dare ancora il meglio. Ti chiedo anche un commento, facendo un passo indietro sulla regular season, una squadra, quella della TASP, che ha vinto anche partite molto importanti contro squadre forti, contro le cosiddette corazzate. Col famoso senno di poi sono mancati un po' quei punti contro le quattro squadre che poi sono scese. Sì, è stato un anno un po' di alti e bassi ma comunque dal mio punto di vista non dobbiamo più pensare a quello che è successo durante l'anno, una serie secca, al meglio delle cinque partite e quindi dobbiamo solamente pensare a Caserta e di cercare di dare il massimo e dare gli ultimi sforzi per queste ultime partite. La serie con Caserta, appunto, come la vedi, è la prima squadra delle escluse. Praticamente, parlavamo anche un po' a microfoni spenti, un fattore che, diciamo, probabilmente la formazione campana non ne terrà conto, darà il massimo. Che tipo di serie ti aspetti? Una serie veramente tosta. Loro sono una squadra di molta qualità, hanno giocatori che possono segnare da qualunque posizione, sia i piccoli, diciamo, che i lunghi. Forse è meglio per noi che non hanno lunghi di posizione, molto sotto canestro, perché le abbiamo sofferti durante tutto l'anno, ma sarà sicuramente una serie veramente tosta.